L'attuale dirigenza deve assolutamente assumersi le sue responsabilità e trovare in tempi brevissimi delle soluzioni a una situazione che ormai è assolutamente insostenibile. Una situazione insostenibile non più tollerabile nell'ospedale Iazzolino di Vibo Valencia la penuria di risorse porterebbe i medici ad assumere sulle loro spalle carichi di lavoro decisamente eccessivi. Ecco perché il dottor Alfonso Ussia, ortopedico in forza al presidio, ha lasciato il suo incarico in netto anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. Personalmente, ha dichiarato alla stampa, insieme ad un altro collega doveva effettuare interventi chirurgici, guardie mediche in reparto e visite ambulatoriali. Non ce la facevo più. E le sue dimissioni hanno avuto l'eco di una bomba, riportando l'attenzione su un presidio al collasso. E' un episodio che rappresenta il malessere di una categoria che ormai si trova a lavorare in condizioni disastrose. Proprio di due minuti fa un messaggio di un nipote disperato che ha la nonna da una settimana ricoverata in ortopedia, con un femore rotto, non viene operata, non può essere operata per mancanza di medice. E il senatore fa appello anche al neocommissario della Sanità, il generale Saverio Cotticelli. Chiederò al nuovo commissario un intervento e chiederò appunto di aiutare quest'ASPA a risolvere le problematiche che ha. Tiziana Bagnato per la CNews24